Ciao 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 Salve 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 Eh? Eh Dio, ma la tua nuvola? L'ho parcheggiata all'ingresso Strano, di solito ci tieni a metterla in mostra Sta zitto Di che state parlando? Eh niente di particolare Il contratto Crep, il contratto Ah Non pensi di aver esagerato? Ok ok ho capito va bene Ah l'amor l'amor Ok adesso sono ancora più confuso Eh ma adesso anche io Idem Non capisco il senso di questo intervento ma ok Nome? Ma mi prendi in giro? Vabbè si sa tu sei Crep No ma fammi capire io devo andare dall'anagrafe A cambiare il nome perché voglio riuscire a imparare quattro sillabe Ah Io sono il signore Eta? 42 Ma se ne hai 16 E se lo sapevi perché me l'hai chiesto? 3 respawn Io sono il signore Ruolo Protagonista Beh io sono il protagonista Io sono il signore Motto Il signore Rosso di sera nessuno zombie si spera Siamo dato il signore Uccidero tutti i giganti Uccidero tutti i giganti Uccidero tutti i giganti Uccidero tutti i giganti Ok. Comunque Chu non si è ancora ripreso? A quanto pare, no. Crep, ma la tua sciarpa? Ah, ti piace, l'ho presa la coin! Oh, l'altro giorno c'ero anch'io la coin! Ma che cazzo? Che coincidenza! Oh mio dio! Oh mio dio! Oh me stesso! Squallida, 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 squallida! Per un attimo si era ripreso! E un attimo dopo con quella battuta! Shish! Ok, ma adesso non dovremmo ringraziare per i 500 iscritti? Che rottura! Grazie! 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 La scritta l'ha fatta creer! Te l'avevo detto di non essere bravo a colorare! Non è possibile, non è possibile, non è possibile, non è possibile! Ma che c'è Ciù? Hai preso un raffreddore! Non è possibile! E' Ciù! E' Ciù! Eh, perchè i Gessetti? Vai! Ma... Vai! Oh fa... E come al solito mi conviene far finta di aver capito! Concordo! Vai! Eee! Mai! Ehi! Så Challenge The Grazie a tutti.